Francesca, è stata una battaglia, è arrivata una vittoria, che partita è stata? È partita di quelle da stare male, nel senso da soffrire, lo sapevamo. Peccato per quel secondo set, non so come si sarebbe messa sul 2-0, ma questa era la palla a volo. Si è visto un bello spettacolo, un bellissimo palazzetto, e sapevamo che era così, Piacenza è una grande squadra, per battere dovevamo avere l'apporto di tutte e che venisse fuori il nostro gruppo. E così è stato, è chiaro che si è vinto per pochi punti, però fa morale una vittoria così, soprattutto in vista di mercoledì, dove andiamo là da loro e loro vorranno sicuramente riscattarsi. Si dice sempre, però, vista quella che è stata la partita, nessuna delle due ha fatto calcoli, in vista della partita di mercoledì, insomma, avete dato tutto il 110% da una parte e dall'altra. Ma no, no, anzi, loro arrivavano pure dalla Champions League, quindi sicuramente più affaticati di noi. Calcoli noi non ne facciamo, noi scendiamo in campo per provare a vincere, senza pensare alle cose fuori. E niente, stiamo lavorando tanto, arriviamo da un periodo anche positivo, oggi non eravamo neanche al 100%, sono sincera, quindi brave così, perché giocare in condizioni non ottimali non è mai semplice.